Ok, allora, gli eroi si erano ritrovati in una foresta magica. Puntiux era rimasto colpito dal fiorellino che avevano incontrato. Secondo Amadeus, l'idilio tra il cavaliere e il fiore era una specie di scherzo magico. Zoya non aveva un'opinione precisa, pensava solo, stiamo a federe. Eh no, stavo cercando appunto di fare, siccome prima non ho registrato. Che narrazione di top, top class proprio, mamma mia. Sì, io e Greta stiamo praticamente volteggiando già nel livello. Perché volevo dire ciao Bella, però appunto poi sono stata un pochettino presa. Poi hai letto questa fantastica storia. Sì, ciao Belli. Ciao Belli, ecco sia il nostro terzo video, capitolo 4, andiamo. Capitolo 4, andiamo. Allora, ricotta, me trode. Ciao Belli. Adesso muoio, guarda subito così. Uh, che culo, che culo numero due. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ci deve passare una una volta perché se noi trattiamo male. Sola viva. Ciao Bella. Ciao Bella. L'amadosca. Bastardo. È morto, è morto. È morto. Sopra c'è roba. Iappa, iappa, iappa. E come? Qua è pieno di roba. Solo piano. Uh, ahah, mi piace questa cosa. Solo che ho bisogno di aiuto. Ragazzi, controllate sotto se la strada prosegue sotto in caso. Allora, sotto. Sotto c'è la morte, sotto c'è la morte. E io sto merendo. Sotto c'è la roba brutta. C'è la roba brutta. Sì, bisogna... No, ma è avanti la roba. Niente, non posso fare due casse io. Allora, vediamo se è il tipo... Aspetta. Due. Ma porca di quella vacca. E va bene, non comunque. Sotto bisogna posizionare le casse, credo, perché c'è una roba velenosa che ti uccide a go go. Sono morta ancora. Allora... Vabbè, io intanto... Venga la Iris. Qualcuno che possiede intelletto. C'è nessuno. Eh, guarda qua. Praticamente c'è sta roba. Guarda, guarda quanto ti ho preso. Sì, ma bisogna fare così. Sopra c'è altro, Greta. Ok, allora adesso scendiamo. Cristios. Pontius. Faccio ricaricare l'energia. Ok. No, com'è che si tirava la freccia col quadrato? No. No, con cosa? Con l'analogico destro. Ok, se mi portate all'altro lato... Perfetto. Dai, salite, salite, salite. No, no, mettila lì, mettila lì. Ma dove? Beh, io... Per battare la... No, mi ha fatto andare avanti, quindi ragazze voi fate quello che dovete fare lì. Vai, vai. No, sono scesa. Porca boia. Sopra c'è la roba ancora. Sì, quindi, Greta... Eh, eh. Inchiuda le casse. E salite sulle casse. Mettila dove ci sono le spine. Sì, è una caduta. Cristo. Allora... Attenzione, attenzione. Scrimmo. Poesia da collezione. Attenzione tutti con la poesia. La bella... La nebbia gli erticolli che vincinando sale. E' sotto il mostrare quello che è il domani. La pallude moschiata. Lì c'è altra roba. Là sopra. Sì. Qualcuno mi fa il favore di venire qua, per favore? Ma dove sei? Su questa cassa magica? In questa là! In questa valle di lacrime? Ok, ci sono, ci sono, ci sono. Ok. C'è la roba. Ah, via, via, ruba. Non c'è altra roba da rubare. Lol! Niente, gli hai preso l'anica in sale. Sì, sì, sì. Salite sulla cassa, salite sulla cassa, vedete quel pozo? Su, 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 ancora su, ancora su. Vai su. Sì, vabbè, io che muoio. Allora, facciamo così. L'altra sinistra. Quella vera, la sinistra. Benissimo. Destra? No, 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 destra. L'altra destra. No, mi dici destra, mi dici destra. Destra, destra, destra. Un po' più giù, un po' più giù. Ahà, oh yeah, I like it. Oh yeah, anche. Ah, non vuole cazzo, ma io ti dico. Allora, c'è un sacco di roba. Qua c'è la roba. Ma è bebé, è bebé, bebé. Io non mi accorgo che è il nemico questo qua. Vabbè, questa nessuno la caga. Sotto c'è roba? Basta. C'è la morte. Io ho messo pure le robe. Sopra c'è roba ancora. Guarda là, guarda là. Come mi incastro io, non si cazzo da nessuno. Ah, c'è anche un cuore. Faccio una cassa. Faccio una cassa. Qualcuno salta su questa cassa. Compa le casse. E se può non le casse. L'avete preso il cuore, l'avete preso tutto. Sì, sì, quello di Sailor Moon sembrava. Tipo, no, è il nome della luna. No, ho fatto la cassa. Perché? Perché? Qualcuno torni indietro. No, ti lasciamo morta. Io vado. No, Cristo. Vai, vai, una per volta. Sennò si cosa quella roba. Vai, vai, vai. No, c'è. Addio. Addie. Potete rinascere per il vostro Dio. Ok. Vediamo. Eh, vabbè. Eh, vabbè. Allora. C'è del disagio. C'è del disagio. Non l'utilizzo della tizia. A chi c'è? Eh, lo giuro. Circo di gioia. Vabbè. Io che sblocco il trofeo un po' così a ca... Wow. Ma wow. Che sono brava. Mi stanno stuprando. Sì. No, 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 no. Guarda come muoio, guarda come muoio, guarda come muoio. Sì, sei l'unica. Vai in cima con la folla, per il tuo Dio. Sì, è la nostra speranza di vita. Ah, sono vive. Ancora per poco. Sono rimossa. Ok, io vado a prendere la roba. Sono morto. La roba buona. Sì, è stato morto. Come rendo aiuto. Ancora stai attacco questa cosa. No, a posto. Ma chi è che fa le casse a muzzo proprio? A casaccio. Ecco, lasciamo. Alla freniviana casse. Dammi questa casse. Dammi questa casse. Dammi questa casse. Poi inchiodala sotto, sotto il ponte. Inchiodala dove ci sono le... Inchiodala sotto... Inchiodala sotto... Inchiodala sotto... Inchiodala sotto... Inchiodala... Inchiodala... Da dove ci sono... Greta, vedi sotto il ponte che ci sono le spine. Gentilmente fai... Ma io metto una cosa. Gentilmente fai una casa e la metti sotto il ponte. Guarda lì che c'è ancora roba. Fammi prendere la roba prima. Eh, io l'ho detto che c'è della roba là. Guarda ancora fin'altro. Aia, aia. Quella è la mia testa. Io lavoro da sola. Ma questo l'ho detto tre ore che c'è della roba là in cima. Non importa, Greta. Non importa. Semplicemente... Mi dovete aiutare, non l'hai fatto, Greta. Basta. Comunque c'è una roba giù. Cioè, guarda quanta roba stavamo missando. E non mi date rete. C'è una roba giù comunque, qua a sinistra. Qua a sinistra c'è una roba. La vedi? La vedi? La vedi? La vedi questa? L'ho presa tutta. L'ho presa tutta. Hai preso sto cazzo. E' questo? 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 Sei viva? Te lo volevo dire. Ma io sono... Sono una roba. Vabbè. Grazie, grazie, Greta. Vosete. Grazie. E' sicura al cento per cento? Ah, al cento per cento. Perché non va a cosare? Qualcuno ti... Ecco, grazie. Ci voleva una panna. Allora, perché non ci cosa? E' questa pianta. Amen. E' raffetata. Ecco, poison ivy. Ecco. Si è incazzata. Ma sono ad attack. Ma dove cazzo sono io? Ma quanti ce ne sono di quei casi? Eh, saltate. Allora che mi sono cazzo. Aiuto. Allora, sai che vedo se si è avuto il time. Oh, non si capisce chi è chi. Io sono il mago. I believe I can fly. I believe I can fly. Aspetta che ho avuto una roba nascosta tra le... Lo vedi tra le fesche fronte una roba nascosta? Aumento che sto... I'm coming again. Madonna, come sta stati diversa. Presa. Andiamo via per favore. Andiamo via per favore. Qua sta non salta. Ecco. Non è che c'è qualche trofeo di saltare pure tipo a non stop. E non ti fermare. Aiuto. Aiuto. Chi è sotto? Bene, arrangiatevi con quello che c'è sotto. Di qua sopra per una volta non la vista. Sotto c'è qualcosa? E' arrivata dentro. Greta. La morte. Solo la morte? Sei sicura? Io non mi fio. Davanti c'è la morte. C'è la morte. Davanti c'è la morte. Io sono morta. Io il mio cadavere là già c'è per terra. Salve. No, morta. No. 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 C'è la morte. C'è la morte. Iris, sei tutti noi. Ma sento solo... No, così sei pazzi. Iris, attento dietro di te, Iris. Dietro, dietro. Vai, Iris. Dai, avanti, dai. Cuci di diritti. È qua. Dietro, dietro, dietro. Hai lasciato una palla dietro? Nel tipo che è morto. Fa di ammazzare la gente. Di calma, di stare calma. Fammi ammazzare il mondo. Che cosa? Dove ho lasciato palle? Ah, qua. Le palle, però. Poi, attenzione, ho troppa responsabilità. Allora, un altro punto, abilità. Io sento troppa... Che cosa è sto campo a bassa gravità? Cioè, io devo fare questa cosa. No, hai filia. No, no, non ce la faccio, non me la sento. Oppure torni indietro. Sì, Iris. Solo che è più difficile forse. Eh, no. Indietro non può andarci, quindi continua, Iris. Perché mi devo dare questa... Io sento la morte. Con l'alto. Fai le casse. Se fa una cassa dove ci sono le spine, di sopra, così, tu poi salti là, sì. No, ho variato il personaggio. Ottimo, ottimo, attenzione. Grazie per la prestazione, attenzione. Sì, non ce la faccio. Allora, qui... Va di là. Mi posso fare un attimo? Aspetta un attimo che ho anche un punto abilità da dare. Posso mettere quello per evocare tre oggetti, in modo che magari mi metti una cassa attila lì, dove c'è la cosa che oscilla e magari me la tavo. Cosa dici? Prova. Prova. No, con sto due ho solo un punto. Merda. Iris, salta sulla cosa quando quello di sinistra è in alto e vai sulla cassa direttamente. Poi quando quell'altro cosetto va un'altra volta a sinistra, ecco, vai giù. Ora, aspetta. Non ti agitare. Ora, appena va a sinistra tu salti. Vai, salta, salta. Vai, 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 vai. Ecco. E ce la fa, ce la fa. Pro player. Pro player della vita. Cos'è questa cosa? Ficcata, usa furtività. Sono invisibile, sono predator. To, 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 to. Vediamo quella cosa, per favore. Questa, questa bellissima palla. C'è anche una testetta all'interno. No, tanto, sono invisibile. I'm invisible. Guarda, sis. Aspetta, che sono impegnata. Greta, puoi salire su questa cassa. Greta, vai ad aiutare Iris, vai, che io faccio un po' di puzzle. Ma dobbiamo far cadere l'acqua qui? Vai, Greta, vai. Vieni qua, ma ci sono le robe. Vado, lol. Vieni qua. Esegui gli ordini, ci sali, riesci? Sì, aspetta, aspetta, lì, senza. Un po' di qua, non ci riesco, non ci riesco, non mi fa salire. Eh, più di così non posso scendere. Vai fuori, prova. Un po' conciutto. Sono incastrata. Molla la cassa Iris. Vieni, Greta. Ce la faccio, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta? Prendi la cassa Iris. Allora, aspetta. Io ti guardo la cassa che mi ha detto. Presa. Ok. Una, vai lì, la coschetta. Guarda adesso se ci roba. Ok. Sono nemici. Deve ammattare i nemici. Basta. Indicendo. Di qua. Guarda che c'è una roba qua. Eeeh, non c'è niente. Qua, qua non c'è più niente. Iris, puoi abbassare... Qua? Qua non c'è niente, lui, di sopra. Ah, spacca sta cassa. Qua, 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 il nulla. Perché non c'è spacca sta cassa? No, questa, quella del mago. Questa è qua? Sì. Adesso un altro mago fa inclinare un tronco e l'altro, l'altro. Inclinato. Sta passando l'acqua, sta passando, vedo l'acqua. Greta, devi scendere da quel tronco dove sei tu. No! Ecco, e abbassalo, quello sempre dove sei tu, verso il basso, appunto. Vai, l'abbassato. Allora. Iris, tu spingi l'altro. Oh, vabbè, dai, va bene così. No, 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 no. Sì, va bene, va bene, va bene, lasciate qui. Ecco qua. Stanna pianta. Vai, pianta. Vai, col pollice verde. Che pollice verde. Mi devono chiamare Jill Cervello Team. No! Tu sei il cervello di questo film di disagio. Ma io ce l'ho già salita vencima tra l'altro. Aia. Oh, lolololololol. Pensiamo in 40 stessi a provarci. Ok. Ma vaffanculo. Ma guarda che non riesco a fare la cassa. No, 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 no. Ma se ci facciamo le casse andiamo senza... Sei sei che ha voluto dare la cassa. Oppure io ho un'altra idea, facciamo così. Gingegno team Vabbè potete anche comunque Vede casse che si Gianni? Gianni? Non c'è niente lì sopra no Oh no Boss Aiuto Scribius Tu non mi vedi Tu non mi vedi Cazzo Sono morta male L'ho congelato L'unica speranza Greta Greta c'è una palla per restare sopra Vai Yes Ma come facciamo? Ma io ho visto tirare No io sono rimorta Anche io ma comunque tu muori Vabbè Eh non va bene Eh perché deve Sì sì Deve far cascare forse qualcosa in testa Sono morta Sono morta Sono morta Sono morta Dai un salto in là Vai Vai No non so molto Vale Allora uno lo distrae Porco dici Fatemi restare Allora Allora Ah ma è quasi un orto però eh E' quasi un orto però eh E' quasi un orto E' quasi un orto E' quasi un orto Ok Benissimo E' morto E' morto E' morto Per aprire la porta Ah per aprire Le palle che c'erano di là Sì Una volta Ma che è? Eri si va bene a rianimare Questo è un dei riani Devi camminare con il mago Adesso vi faccio vedere come Aspetta ne Aspetta ne Aspetta ne Aspetta che la vado a cos'hai Sì Sono morta a mano L'aricatore Cosa hai maffo Anni Cosa hai maffo Cosa hai maffo Ok Ok Un'altra volta Stava per morire Allora fate manovrare a me Tu in caso Greta Se vedete così in alto Fai la cassa per Iris Yep Ok O viceversa Allora una qua subito Fai una in alto Ok Ok Ma chi è che lo sta facendo? Guarda che mi sa per far cadere Abbattetela please Te lo meriti Io non ho fatto niente Io non ho fatto niente Sono qua tranquilla Lasciate manovrare me E Greta Allungato tutta la gamba Guarda Porco Giuda Stava facendo stretching questa cosa Momento di disagio estremo Ma attenzione Allora ci sono due palli Una palla là E una ancora più in alto Come facciamo? Una palla Cioè facciamo così Lol Eh chi è che adesso mi hanno avuto la cassa? Guarda guarda come mi fanno morire Ecco grazie Sono belle Vai Greta Ecco salto io Ancora più in alto No 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 Greta sei sola? Greta Greta Ci puoi saltare con la ladra comunque Dove? Qualcosa di legno Qualcosa di legno suo Ho fatto solo dove c'è il foglio Ecco va No Non andare avanti E dove caccia vada? Eh non ci puoi rossare Ecco piglia la cosa grande Arrampicati un'altra volta poi lì E vai Adesso può andare? È finita? Non so Non so se a sinistra c'era qualcosa Ma ormai è troppo tardi La 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 Sì è finita Mamma mi stai infartuando ve lo dico Io stavo soffocando Sì Sopoca Sopoca attenzione Zitte Ehm 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 Esatto Vedi che sono io il coso che stava a minchiare Trofeo Trofeo Ohh Mak Mazzardo Adam Adam Ok stop Vada, video Vada, video